Grazie a tutti gli italiani e alle italiane che mi hanno sempre supportata e seguito questa missione con affetto. È un privilegio e un onore poter rappresentare l'Italia nello spazio e se sono qui oggi è grazie al grande impegno e ai grandi risultati che il nostro Paese ha ottenuto, ottiene e continuerà ad ottenere in ambito spaziale. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.